Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta fragole e limone. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, fecola di patate, zucchero, yogurt alla fragola, olio di semi di girasole, uova, lievito per dolci vanigliato, pasta di limoni o la scorza grattugiata di un limone, sale, limone a fette e fragole a fette. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere le uova e ad azionare il bimbi per 8 minuti, 37 gradi, velocità 4 senza misurino. Aggiungere l'olio e lo yogurt. E ad azionare il bimbi per un minuto a velocità 3. Aggiungere la farina, la fecola, la fecola, il sale, la pasta di limoni e il lievito. Ed azionare il bimbi per due minuti a velocità 5. Il composto è pronto, componiamo la torta. Abbiamo rivestito una teglia con carta da forno, spolverizzare con lo zucchero semolato. Mettere i limoni ed attorno ai limoni le fragole. Spolverizzare la superficie con lo zucchero. Versare il composto. Cuocere in forno preriscaldato o statico a 180 gradi per 20-25 minuti circa. Fare la prova a stecchino. La torta è cotta, lasciare raffreddare prima di rimuovere dalla teglia e servire. Torta fragole e limone. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie. 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 Grazie.